Buongiorno, il famoso Vedi, questo qua che riesce con la serie 90 Vedi quale lì Ci sono le vecchie pianne Ma con le altre cose se le fanno Quello sai che dove si fa? Queste, trasparente Queste, no, queste Queste vecchie, vedi? Non tocco, non tocco Non tocco, non tocco Lo sai che questo qua, ascolta, questo qua, quando ci ha fatto Mi lo porto in coerissima e mi fratello Io ho dato la 2000 con l'acqua Poi ho dato domani trasparenti però come regola sembrano almeno otto mani trasparenti per far sparire capito? è un spessore eh lo so purtroppo sono circa otto mani trasparenti in grosso modo però sai che se tu gli dai una botta di 2000 con l'acqua un po' a spegne e gli dai un'altra due mani già si ammortizza di più capito? e io tu? ma se vuoi non lo ha ma che? sì sì vedi i segni le vecchie fiamme della volta che l'hanno cambiata che si romano è rimarcatura sì non è come dice lui devi dare altre due mani trasparenti sì altre due mani trasparenti però c'è un po' se cosa questo conviene che non so se non conviene lascia lascia così lascia così perché lo sai c'è troppa roba troppa roba col tempo si ripassa se ti arriva in carolina se scoppa se può se è bello mini per capo no? no 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 è la miera però niente troppa roba troppa roba sopra no? meglio fa bene sì lo so lo so ho fatto il carrozzia di 15 anni rimarcano ti ricordi? e scoppiano scoppiano col calore come la famosa che roba c'è stai io so del parere che una manetta di vernice due mani trasparenti è vero sta bene così allora niente ho comprato un altro parafango dai e aggiuntarlo è famosa dai mandata così quanto costa? tanti dubbiotti? tanti dubbiotti orco giudo pezzo di ferro questi ti ne fa due però sì quanto è l'uomo? due 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 tanti quanto è questo? questo è uno 23 3 e su 23 e 23 qua 46 46 e tu questo ce ne puoi fare un'altra moto perchè da quello che vada agli arlo qua di 15 milioni te ne basta così a te qua a me lo ordini quando te lo portano il parafango poi di 3-4 giorni non ce l'ho e allora a me conviene portarlo a casa a me ma non ce l'ha fatta sicuramente e ma a me con l'affare ce l'ho giuto a me ce l'ho ma non ce l'ho mai sì sai mai sì sì vabbè prima che te lo porta 4 giorni dai guardi con i giorni 3 giorni no è troppo la signora è ammazzata te sei in chiappetta tua moglie la signora sei in chiappetta no troppo e qui è giusto l'unico sistema è quello piano in altro il parafango e aggiuntarlo vabbè vabbè andiamo? ma quando fanno tutto quello posso pulire la